ragazzi sto facendo questo video per avvertirvi che è iniziata la scuola per noi perché prima eravamo in vacanza tre settimane in vacanza eh sì perché questo è un sistema francese dunque sì perché eravamo in scuola francese dunque e quindi come ti va? e c'è dei sottotitoli speriamo siamo attivi allora abbiamo detto buongiorno come va poi potremmo dire come ti va? come stai? o ti va? dove vai? vabbè che si fai? che si fai oggi? cosa fai oggi? io fai un video un video e ragazzi era solo un video d'avvertimento quindi dunque un attimo le pubblicazioni dei video saranno giustati più o meno a quest'ova non lo sappiamo ma ciao ma ragazzi questo è un avvertimento e quindi ci vediamo al prossimo video dunque iscrivetevi perché dobbiamo arrivare assolutamente a 100 iscritti e fate attenzione che domani forse non pubblichiamo un video forse perché dobbiamo andare a tennis e c'è anche la scuola quindi è un po' un casino e quindi ciao ragazzi appena che non mi sveglio all'inizio vi faccio un video ciao ragazzi ciao grazie a tutti